La Cisola Revisore De La Cisola Revisore Sono le 7. Esco di casa e prendo la mia macchina per andare al lavoro. Cintura Que trafico La chiusura della macchina è pazzesca E prendo la mia ambulanza veterinaria perché c'è un gatto in pericolo su un albero E beh l'ambulanza è solo il suo forte Ma il gatto è troppo in alto quindi chiamo i Vigili del Fuoco E' un uomo Senti E così abbiamo salvato il gatto Ciao E' un uomo Manuel, hai visto che si sono alzati tutti in piedi? Perché volevano andare a casa Tu lo sai che Claudio è molto cattivo con i bambini Tu sei un talento incredibile Io nutro una stima verso di te che sei l'ultima bambola della matrioska Che non hai neanche idea Sei fortissimo Bravo Scusate, 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 scusate Ragazzi rimanete qua Scusate ragazzi Però io non ce la faccio Questo verdetto mi sembra un po' incompleto Ecco Vorrei avere due golden buzz Non ce li ho Ce n'è uno Ma non posso non mandare in finale Ma ti prenderà Solo un po' di te Un istante di complicità Un'esame di complicità Che passerà Lascerà la forza Ragazzi se vi è piaciuto questo video Iscrivetevi al nostro canale youtube Oppure visitate il nostro sito internet